se tu fossi qui a parlare di tante cose sicuramente sarebbe l'alba ma la mia vicina sono secoli che annaffia le sue piante la sera che continua con lo stesso colore c'è una zanzara pesante sonnolenta ferma sulla finestra forse tutto è solo una cartolina o il coperchio di una scatola di cioccolatini con tanti nastri